Beh ragazzi siamo venuti in questo nuovo video Con la skin nuova Con la skin nuova Io ho iniziato a registrare adesso, però si è buggato Anch'io la skin nuova Ma si è buggato Guardate è la skin nuova Sì ma non capisco se è veramente una skin nuova o se sei buggato Perché mi vedi con Steven? No ti vedo, ti vedo viola e nero Ah può essere che si è buggato Chissà quale sarà quello vero Non lo so io Ma proprio non lo so Luca non ti stai shiftando Luca non ti stai shiftando Perché mi dai i tasti rapidi Cos'era? Cos'è successo? Che cazzo Cos'è successo? Cosa è successo? Il volume cazzo Ecco sì, prima di quello che succederà nel cervello Siamo a due, ne manca uno raga Porco di... oii Io sono nella merda Perchè questa serie sta diventando troppo poco mascolina? Anche a me non mi dava il killer Vabbè Quello della legna perchè l'avete spaccato con un tool che è la vostra mano Tipo così Yo Yo Fratello 33 sampling Vedi che divertente scavare in 1 6 4 Vedi che divertente scavare Tu sei divertente scavare gli alberi Esatto Allora dai Io vado raccogliere un po' di cobblestomo Aspetta aspetta Regà regà No ho paura Ho paura Sgravo Perchè sei sgravo? Che... nooo Che nezzo Vada lui che nezzo Nooo vabbè Noo dai Noo Schifo Uuuu Lo voglio anche un po' che serli nel legno Però andami fai gli scattoli di Gesù Cristo A te ti fai gli scattoli di Gesù Cristo Cos'è? Lo supporti Minecraft 1 6 4? Inche veramente Supporto 1 7 10 No 1 6 4 Ah scusa Stavi craftando Una volta Non so che frafalle lo sronzo sgravo No tieni Hai fatto il puzzle giro? Si Ah di cobblestone Madonna Cioè Io mi stavo per fare quello in legno Cioè lui di già cobblestone Non so E questa è la spalmocraft Di asciare Si 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 spalma Si si spalma Ma sai che ti dico Se sta montagna rosa mi sta un po' sul chia Quindi boom Ecco Ho finito il puzzle Ho finito il puzzle Ho finito il puzzle di legno. Vieni sotto, vieni sotto, vieni sotto, vieni sotto. Eh, calla. Ah no, fa culo. No, stasera qualcosa di Poliforce. Ma perché lui c'è quella tasta di me? No, che schifo. Eh, vabbè, io che c'ho il pistonotto. Sed, diventa una gallina. Eh sì, ragazzi, avevo messo anche la Morph comunque. Ok, molto bello avere The Distance Short. Perché 1, 6, 4? Perché purtroppo Fra supporta solo quella. Fra supporta, ma in me l'H di me non ha 1, 7, 10. Eh però Fra, sai, se mi gli mettiamo le 1, 7, 10 mi vuole compiuto. Ok, io ho tipo due stacchi di basalto. Fra, noi siamo in caverna. Io ho raccolto due stacchi di basalto, cioè proprio senza impegno. Ragazzi, venite in miniera che notte. Sto arrivando, fammi craftare i 20 pixel. Fammi craftare i 20 pixel. Altri 20 pixel. Fucs è nero. Il suo rosa è nero. Senti, risposti io vado proprio in inferi a cercare i diamanti. Io provo a uscire e rientrare, magari ti so. Ma io lo faccio ad uscire e ad uscire e rientrare. No, se esco io a crash al mondo. Arresto anomalo del gioco. Hai crashato in Minecraft. Ma va a fa' il culo, va. Ma ti sei bevuto o il cervello? Il cervello con l'annuncio sei bevuto. Che il distraction pickaxe, solo che quel piccone è un po' particolare perché non droppa. Ma come non droppa? Però è finito. Mi chiamo il distraction? Io. Eccomi! Comunque sono le due di mattina praticamente. Se guardate l'orologio sopra. Infatti non fate casino che se no si svegliano tutti. Infatti. Andiamo piano. Scusate, c'è Premiere, no? C'hai due mani. Puoi fare la cosa simpatica, le metti le docce a una mano e le puoi fare l'altra. Comunque voi mi avete fottuto. Perché io ho fatto il coso, l'overlay figo, per la barra sotto ci sono due altre barre di fianco. Ah, sì? L'ha fatto il gear. E la messa Fra è una moto di merda, è diverso. Bastardo. No, è utilissimo la moto di merda. Fra però ha fatto sta cosa arcobaleno. Sta roba qui che cosa sarebbe? No, aspetta, voglio vedere se si bugga. Voglio vedere se si bugga. Se si buggia. No, vabbè. Fra, hai delle cobblestone in generale? Eh, sì, esiste la cobblestone. Fai, allora, fai il blocco di cobblestone. Che figo. Fai il blocco di cobblestone, poi togli, poi prenditelo e smacellalo, nel senso farla tornare cobblestone normale. Abbiamo scoperto un bug. Sarebbe? Che ti dà la cobblestone normale. Non dovrebbe? No. Prendi il blocco di cobblestone. Ma scusa, si può craftare? E farla tornare normale. Cobblestone. Esatto, non dovrebbe dartela. Sì, è il crafting, sì. Ho capito il crafting, crafting è bagato, dovrebbe darti il materiale con cui l'hai fatto. No, sì, è fatto apposta. Metti 4 di, per esempio, andesite cobblestone, non ti dà la cobblestone normale. La base è quella che... Aspetta, Luca, volo. Cioè, mi vedi, sto volando. Oh, 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 oh. E sto frocio? Il pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipistrllo. Ahia, quello sono io. Sì ma vaffanculo l'hai rotto te Pezzo di merda Ma pure qua è pipistella scusa Che pezzo di stronzo Non è oro si è zonzo Ma come? No non riesco a spaccare a mano Ma l'ha già rotto Luca Pezzo di merda Coglione Coglione Oh pipistello Dove? Ah no sei tu Dov'è morto? Sicuramente non è morto nella lava per cui Guardalo MAKU-DO-NA-RUDO Non dirò Io ho smarmellato un Paxel per terra Ma chi è sto qua? Io Con le frecce che ti corrono dietro Ma che cazzo di problemi hai? Cos'era? Cos'è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? Sto tipo crepando di fame Sto tipo crepando di fame No no sta crepando veramente Sì ma intanto la resta è mezzo cuore E vaffanculo è notte Stai morendo? Sì ho due cuore e mezzo Grazie Oh ma hai risparmiato un sacco della sofferenza Sì No 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 mi lasciare amore mio ti amo Afferrami il mio ano Peròì ma hai detto il pensiero Abbiamo anche i minerali? Fai vedere abbiamo i minerali Quanta roba Cazzo Dberry già Abbiamo più iniziato Tu sei pazzo Ma 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 sei tipo Ma sei tipo Facciamo un cazzo di pulvera Ma cazzo di portare Ma sei tipo Mi dia due pugni Dove sei? Qui Grazie no, ha preso lui una kill no, no però non c'ho da skin ti fa male la testa come no? come? sono uno steve con un coso in testa no, scusa dove sei? mi sa che ho più mind qua, qua ahi, dov'è qua? qua no, no merda e ovviamente vuole sempre nuotare nella lava esatto però potevo solamente un po' di zolfo che palle perché quello zolfo? che cassa ne so, può essere utile prenditi dei cegarini c'ho la lampada di redstone tipo l'impianto di redstone mi fa male la cessa io c'ho l'impianto di redstone vedi meno, pirla Luca, io mi sono fissato con la redstone ce l'ho proprio in testa eh, lo so tu c'hai il cappello pistoloso io c'ho il pistone quello che mi serve per la pistonoto vianalmente tutto suonante il volume cazzo ecco, sì, più bene quello che succedeva nel cervello pechina ho un problema nella testa funziona a metà ogni tanto parte un suono che fa il database dei diavast che fa io sto spettando voi che mi portate la sabbia eh, ma me l'ha annullata quanta fretta ma dove corri dove vai cazzo mi hanno sgamato t'ho sgamato io, t'ho sgamato mi serve, qua c'è un po' di ciba ah, è Maxo, cazzo mi stavo mazzando mi dai da lo spio ciao Maxo parenti parenti, esatto, guarda no, adesso siamo parenti della stessa colorazione, no? guarda scusate, ma come va che ne le colori? è lungo, mazzò i tuoi colori diversi ciao, pocafranchi billy ma io non lo vedo è invisibile no, infatti, invisibile servatemi servatemi, a favore sei invisibile, purla siamo a tempo con Franceschi ma spe, io sopra dovrei avere una tomba io sopra dovrei avere una tomba mi pare, eh ragazzi sapete che stiamo registrando da tanto lo so facciamo cose serie ma il pc mio già sta piangendo si tipo per favore facciamo qualcosa di concreto si un letto io dormo no stronzo ciao max e io sono più naturale bastardo ho sbagliato non volevo farti del male non esplodere non esplodere ma scusa il kipea è l'attenitore no porco dai abbiamo fatto la chiusa questo invece me l'ha aperto siamo a due ne manca uno raga cos'è successo e prendiamo gli inventari no ma perché è continuato a morire questo non è la merda perché questa serie sta diventando troppo poco mascolina perciò ragazzi ovviamente vi ricordo del video di Asshare mi piace se il video vi è piaciuto non mi piace con un commento con un saluto se mi giro per voi vi iscrivetevi a tutti i social nelle pagine che trovate qua sotto in descrizione di unirvi al nostro ATS siamo tutti felici e contenti mi scuso se in questo video non abbiamo fatto un porco il tazzo copione no non si accusa così a caso capito questo vuol dire copione stronzo ma smetti di colpirmi io lo chicco ciao ragazzi da pochefranchi pochefranchi e pochefranchi e pochefranchi e tutto ciao a tutti i ragazzi aspetta aspetta no rimbacciamo da pochefranchi col piccone pochefranchi col tizia pochefranchi col pistone e tutto pochefranchi con la torretta e un prossimo video ciao 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 No Oh, sta sera vengo a dormire quasi tu, hein?